D'accordo, prendiamo quindi la spada, perfetto, hai ottenuto la spada corta, ce la equipaggiamo, chissà dove tiene tutto l'armamentario Geko, o meglio Isaac in questo caso, tra l'altro in questo gioco tu puoi anche farti una cultura leggendo e vari libri. In viaggio con la psi-energia, gli adepti possono usare la psi-energia per eliminare gli ostacoli e aprirsi la strada. Usa la psi-energia spostamento per disfarti delle rocce e la psi-energia crescita per trasformare le piantine e gli anni da scalare. Allora, ovviamente, spostamento, vabbè iniziamo da crescita. Con questa psi-energia di terra è possibile far crescere delle piante molto rapidamente in modo da poterle usare per raggiungere aree inaccessibili. Che qui, oggettivamente, te la semplifica molto la cosa. Per avere crescita tu nel gioco originale dovevi almeno fare uno di terra e uno di fuoco. Qui l'hanno un po' semplificata per chi non era così pro a mischiare i digi in tra di loro. Poi, spostamento. Con questa psi-energia di terra è possibile spostare senza sforzo oggetti se è molto pesanti, che poi in realtà gli stessi oggetti puoi spostarli anche a mano. Quando sei sempre di non poter proseguire, pensa come la psi-energia in tuo possesso al momento potrebbe aiutarti. Eh, grazie. Poi qui? Niente? Ah, abbiamo ottenuto il Sole d'Oro volume 1. Qui che cosa abbiamo? Ci sono molti libri noiosissimi. Vabbè, fantastico. D'accordo, andiamo al piano di sopra, vediamo che cosa c'è rimasto. Tac. Scudo? Guanti? Guanti. Perfetto, i guanti imbottiti. Tra l'altro, non mi ricordo quanto sia l'inventario di questo gioco. Ad occhio, così ti direi, 2, 4, 6, 8, 16 oggetti potrebbe essere. Andiamo da Karis. Allò? Bene, sei pronto? Forza, raggiungiamo Garrett e tuo padre. Ti ricordi dove dobbiamo incontrarli? Certo. Grande, allora fammi pure strada. Dirigiti ad est della baita e poi al ponte. Karis si aggiunge alla squadra. Yeah. Proseguiamo. Ah, questo gioco. Sarebbe veramente bello. Vediamo? Troviamo qualcosa? Sarebbe veramente bello se ad oggi tirassero fuori un nuovo capitolo. Purtroppo so benissimo che è un sogno. È un sogno che al momento, chi lo sa, non si realizzerà. I ragazzi non dovrebbero avere problemi a scendere la valle. E noi li seguiremo da lontano. Ho capito il tuo piano, Isaac, ma sono preoccupato. Non c'è bisogno. Potrebbe essere un'ottima occasione per vederli in azione. Basta che non esagerino. No, è troppo pericoloso. Mi sembra davvero una pessima idea. Non pensi che prima o poi i nostri ragazzi debbano imparare ad arrangiarsi? Non se per farlo devono rischiare la pelle. In ogni caso la priorità è trovare Terry. Sai bene che essendo un adepto di terra riesco ad avvertire cosa sta accadendo laggiù. Terry ha superato la foresta ed è al riparo. Va bene, va bene, hai vinto. Mi dà la tua parola di non interferire nelle loro battaglie? Allora, Garrett? Ci volevate mettere alla prova, stronzi? E va bene, stavamo ascoltando. E allora? Altrimenti come faremo a sapere cosa state tramando, Isaac? Non è vero, Gekko. Abbiamo sentito tutto. Hanno in mente qualcosa per noi, giusto? Facciamo che siamo felici? Alla faccia della fiducia. Sei convinto che possiamo fidarci ciecamente di loro a prescindere di... Vedi, non c'è un modo logico per capire qual è la fascia giusta. Ovviamente io volevo dire, ma sì, dai, vedrei che ce la cameremo. E invece no, lei pensa, ti fidi ciecamente di loro anche se tramano le nostre spalle. Porca puttana, non è quello che volevo dire, Caris. Ma non stavamo, cioè... Stavamo semplicemente decidendo come procedere. Ecco tutto. Abbiamo deciso che, mentre scenderemo a valle, se vi scontrerete con dei mostri, noi non interferiremo. Immagino che vogliate una spiegazione. In realtà... No. Cioè... Però, vabbè, vai. Penso che questa sia un'ottima occasione per mettervi alla prova. E ora che conoscete il nostro orribile segreto, che ne diresti se ci dirigessimo a valle? Andiamo? E via allora. Io... Ah no, aspetta. Caris ha solo Turbie e non ha la possibilità di leggere nella mente. Dai, Gecko, muoviti. Prendi il comando. Andiamo a cercare Terry. Non c'è tempo da perdere. Terry ha bisogno di noi. Andiamo allora. Che bello questa scena. Bella. Veramente bella. Va bene. Sì, qua purtroppo ve l'ho detto. Alcune cose, come anche qui effettivamente, ora che ci faccio caso. Purtroppo la skilling diciamo che è un po' bervino, ma è denne cara. Però, ogni tanto si resetta. Prosegui dritto per questa strada. Ci porterà da Terry. E allora andiamo dritti. Si va verso la caverna. Belle le musiche. Molto stile classico. Molto stile vecchio, appunto, Golden Sun. Ed eccolo qua. Aspetta, Gecko. Qui c'è puzza di mostri. Voi due siete dei novellini. Non la potete sentire. State in guardia. Dovreste cavarvela da soli contro i nemici che incontreremo in questo luogo. Siete pronti? Ma certo. Hai proprio voglia di combattere, eh? Bene. Ma non dimenticare di usare con saggezza la tua psienergia. Garrett. Stai buono che tu di psienergia nel gioco originale ne potevi usare poca. Ne potevi usare poca. Avevi pochissimi pipì, tesoro. E allora andiamo. Il nostro primo nemico. Degli slime. Che poi qua dicono melma. Però. Vediamo. Andiamo di combattimento. Subito. Così. Critico. De botto. Quattro danni. Ok. Non è terribile il quantitativo di danni al momento. E possiamo cavarcela. Chiaramente. Era ovvio che non avremmo avuto difficoltà. Però. Allora. Come è andata la tua prima battaglia, Gekko? Ricordati che la psienergia è il tuo valido adeleato. Puoi usarla durante le battaglie. O anche mentre esplori un luogo per superare gli ostacoli. Per esempio. Puoi usare la psienergia per spostare gli oggetti che ti sbarrano la strada. Proseguiamo, Gekko. Non possiamo tornare indietro adesso. E chi vuole tornare indietro? Potrei anche starmene qui a livellare un pochino volendo. Però. Il gioco in teoria si ce lo concede. Ma tanto meglio. Allora. Prima di avanzare. Fai vedere. Crescita e rimedio. Sai qual è il grande problema di questo gioco? Che non ti fa vedere in anticipo quanti danni in teoria fai. Comunque. È una creatura di vento. Palesemente. Non ha senso usare. Un attacco di terra. Vediamo il turbine. 32. È perfetto. Quindi sono deboli al vento. Seme volante. 6 punti esperienza. Un'erba curativa. Visto? Siamo bravissimi. E ora? Dunque. Spostiamolo. Fammelo fare. Ah. Bella pensata ragazzo. Garrett non crede ancora nelle tue capacità. Ma sei riuscito a sorprenderlo. Ti ringrazio. Mi è piaciuta la sicurezza con cui hai capito cosa fare. Ma temo che Garrett abbia ancora qualcosa da aggiungere. E come? Quando sposti una roccia come questa devi spingerla fino a farla cadere. Hai capito? Isaac. Questa prova era troppo semplice. Forse. Ma è solo l'inizio. Fa. Troppo facile. Chiunque avrebbe potuto intuire cosa fare. Volete dire che era una specie d'esame? Stanno giocando con noi, Gekko. Siete orribili. Avete messo quella roccia lì di proposito. Tu che ne dici, Gekko? Sono abbastanza deluso. Non arrabbiarti. Credi davvero che vi metteremo alla prova se non pensassimo che ne vale la pena? Ok, Gekko. Sposta quella roccia per essere sicuro che tu sappia cosa fare. Vediamo come attivi la psi energia. Come se ci voglia chissà quale poter... Grazie, gioco. Ho già fatto. Dai! Che palle! L'ho già messo sulla R! Fammelo fare! È inutile che mi spieghi una cosa che ho già intuito. Lo so come si utilizza! Non mi fare il tutorial! L'ho già fatto! Posso? Me lo fai fare? No! Non voglio usare la L. Voglio usare la R. Tiè, vaffanculo, gioco. Le psi energie in tuo possesso dovrebbero essere sufficienti per questa missione. Ricorda che la psi energia può essere usata in tanti modi diversi. Tieni gli occhi aperti. E anche se usi la psi energia mentre ti trovi in viaggio, non preoccuparti di esaurire i punti psi energia. I tuoi bp verranno lentamente ripristinate mentre cammini. Usa pure la psi energia se ne hai necessità. Capito? Inoltre, guarda laggiù. L'aria intorno al monte Aleph è ricca di energia elementale che si cristallizza sotto forma di pietre psi energiche. Oh, ma guarda un po' le care vecchie pietre che, purtroppo, in questo titolo chiaramente non c'è più il glitch della ritirata con le pietre. Sarebbe stato interessante provarlo. Ma sappiamo che non c'è. Pietra psi energica si tratta di un minerale ricco di psi energia formato dal corso di molti anni nella cristallizzazione del potere elementale. Gli adepti sono in grado di assorbire la psi energia di queste pietre semplicemente toccandole. Quando ciò avviene, le pietre vengono consumate completamente. Toccane una per ripristinare tutti i tuoi punti psi energia. D'accordo. Ok, prosegui. Usa la psi energia per superare gli ostacoli che ti separano da Terry. Va bene. Io allora vado. In ogni caso, non mi sento di volerla. Ah, dobbiamo fare attenzione a questa cosa. Purtroppo, eh, come vi dicevo, Golden Sun ha questo grave problema di poca compatibilità con molti emulatori. E come vi ho detto, The Swoom in questo caso è il migliore degli emulatori che c'è in circolazione per, appunto, emulare questo gioco. Purtroppo non è perfetto. Non è perfetto neanche lui. Andiamo, Caris. Dunque, c'è qualcos'altro che possiamo fare. Uh, bella foresta incantata che abbiamo lì. Dicevo, c'è qualcos'altro che possiamo fare a parte spostamento. Fammelo fare. Grazie. Ma, a parte cose, guardando in realtà poi la miniatura che si forma quando usiamo spostamento, si fa tutto un cerchio attorno all'oggetto. Però io posso solo spostarlo a destra, a sinistra, a su e giù. Perfetto, siamo arrivati alla base dell'altopiano di goma. Mi piace un sacco il vestito di Isaac. Quello di Garrett è da vecchio padre panzone. Ma non abbiamo ancora trovato Terry. C'è ancora molta strada da fare prima di arrivare alla caverna verso cui si è diretto. Pensavamo che saremmo riusciti ad arrivare prima che facesse buio. E invece, ora è un bel problema. Non era mia intenzione portare i ragazzi nella foresta nebbiosa di notte. Ah, cavolo, non ho fatto in tempo a leggere. Anche noi non siamo mai entrati nella foresta di notte, ma non possiamo fermarci. Dobbiamo trovare Terry. Andiamo. Spero che qualcuno ne parli ancora della foresta. Ah, ok. No, non è vero. Anche se non le tocchiamo subito, i termi ci rimangono. Questo non me lo ricordavo. Quindi, nel caso non lo facciamo subito. Vogliamo leggere il dialogo. Tutti i termi ci appaiono più avanti. Perfetto. Questa cosa non me la ricordavo. Non mi piace come si stanno mettendo le cose. Già, con il buio usciranno i mostri notturni che popolano la foresta. Questo ci renderà le cose più difficili. Non fa niente. Dobbiamo muoverci e salvare Terry. Non arrabbiarti. Siamo stati solo un po' lenti e la sera è scesa troppo in fretta. Non era quello che intendevo. Io volevo dire, dai, muoviamoci. Non mi arrabbio perché diventa notte. Che cazzo. Quei mostri faranno meglio stare lontani se non vogliono vedersela con noi. A questo punto, non so cosa dovremmo fare con Jack e Karis. Beh, non li possiamo certo lasciare qui. Certo che no. Ma non possiamo nemmeno farli andare avanti da soli come abbiamo fatto finora. I mostri li farebbero a pezzi. Mamma mia. A pezzi. Oh no. Pensi che sarà pericoloso, Gekko? No, vedrai che va tutto a posto. Non hai paura. Meglio. Tanto arrivati a questo punto non si può tornare indietro. Beh, a mali estremi, estremi rimedi. Vi presteremo dei digi. Ma solo finché non ritroveremo Terry. D'accordo? Dimmi la verità. Avevi pianificato tutto questo sin dall'inizio, vero? Potremmo usare i vostri digi per un po'. Fantastico. Così per noi sarà più facile combattere i mostri della foresta. Sapete come si utilizzano i digi, in certo? Bene, ma meglio esserne certi. I digi offrono così tanti vantaggi che sarebbe un peccato non sfruttarne qualcuno. E allora perché mi chiedi se so come si usano se poi me lo devi spiegare lo stesso? Lasciamo che uno dei nostri digi gli spieghi tutto quello che devono sapere. Buona idea. Chiederò a Selce di spiegare tutto, proprio come ha fatto all'inizio nella mia prima avventura. Ciao, sono Selce. Ehi là, sono in 3D ora. Ho sentito tutto, Isaac. Ci penso io. Ciao. Piacere di conoscerti, Geko. E salve anche te, Karis. Io sono Selce, uno dei digi in venere di Isaac. Conosco Isaac dal giorno in cui ha lasciato il suo villaggio Vale. Ora non abbiamo tempo per i ricordi, Selce. Ci serve una spiegazione sui digi in. Ah, che palle. Sempre di fretta. Sarò breve, allora. Come usare i digi in. Noi digi in siamo degli spiriti della natura. Possiamo essere di 4 tipi. Venere, Mercurio, Marte e Giove. Una cosa carina che hanno fatto in questo titolo è che voi vedete adesso i modelli classici degli appunto digi in. Ma ogni digi in che troveremo, a parte essere in 3D, sarà di un aspetto diverso fra tutti. Tutti quanti hanno una forma che si addice comunque, diciamo, al loro nome. Ognuno di noi è legato a un elemento. I digi in di Venere rappresentano la terra, mentre i digi in di Mercurio l'acqua. I digi in di Marte rappresentano il fuoco. I digi in di Giove rappresentano il vento. Se piazzi un digi in su un personaggio, la sua classe potrebbe cambiare. Ad esempio, ora la classe di Geko è diventata brutto. Ecco, questa è una spiegazione che nel primo gioco tu non sai, tu non lo sai. Finché appunto non provi però. Anche se le sue caratteristiche con i P.V.S. e i P.P. potrebbero cambiare. Esistono molte classi differenti e ognuna di queste permette di usare l'epsinergia associata a quella classe. Ogni digi in dispone di un'abilità unica. Usali in battaglia per attaccare il nemico, per aiutare la tua squadra. Guarda come si fa. Ok, qua va in automatico, immagino. Esatto. Dai. Che palle che ogni tanto purtroppo lagga anche nell'utilizzo delle cose in automatico. Però che bello il modello abschelato. Mamma mia. Linfa! Hai sconfitto la melma. Dopo essere stati usati in battaglia, un digi andrà automaticamente in stand-by. La classe e le sinergie ottenute grazie a quel digi verranno perse finché questo non tornerà piazzato. Distribuisci i digi fra i membri della tua squadra e prova varie combinazioni per scoprire quelle che fanno al caso tuo. Non puoi metterci tutti su un personaggio. Devi dividerci fra tutti i membri della tua squadra. Così potremmo essere utili a tutti. Che poi? Chissà come sarebbe un personaggio letteralmente con tutti i digi. Sarebbe... Boh... Mamma mia. Neanche me lo immagino. Come dicevo, i digi vanno messi in stand-by dopo essere stati usati. Per mettere un digi in stand-by puoi anche utilizzare il menu digi. Perché è utile mettere i digi in stand-by? Perché i digi in stand-by possono evocare creature potentissime durante una battaglia. Ogni membro della tua squadra può usare i digi in stand-by per l'evocazione. Guarda come si fa. E via di un altro coso automatico. Dai. Fammi vedere come si fa un'evocazione di due digi in di tipo terra. Ramsete. Che bello che ci fa già vedere un'evocazione di livello 2. Che succede? Porca puttana. Ok. Questo è un problema. Questo è un problema. Dopo essere stati usati per un'evocazione, i digi in dovranno recuperare l'energia. Fatto ciò torneranno automaticamente piazzati e ripristiranno i benefici di classe e stato. Hai capito una spiegazione sui benefici che hai ottenuto dai digi in piazzati in stand-by? Tutto chiaro. Tutto chiaro. In tal caso questo è quanto. Ti ringrazio della spiegazione, Selce. Sì, grazie mille, Selce. Quindi che digi in ci date? Bene, dividiamoci i digi in. Ricordi che Selce ha detto di dividerli equamente fra tutto il gruppo? Bene, perché sapere come piazzai i digi in è fondamentale. Muoviamoci, Terry ci sta aspettando. Venite intorno a questa roccia. Pronto, Geko? Pronto, Karis? Quindi abbiamo tipo due ciascuno di ogni tipo? Ecco qui. E con questi digi in sono equamente divisi. Quando ho cominciato io avevo solo un digi in. Te la senti di maneggiarne i tre tutti assieme? Ma certo. D'accordo, ma non prende la cosa troppo alla leggera. Mi raccomando. Isaac, ascolta. Non sarebbe ora di decidere a chi affidare il comando di questa piccola spedizione? Hai detto che il capo dovrebbe essere Geko, ma io ho seri dubbi a riguardo. Non penso che sia pronta a prendere il comando. Ecco, l'ho detto. In effetti un capo ha molte responsabilità. Guidare qualcuno in battaglia non è mai facile, ragazzi. Ai vecchi tempi era Isaac il nostro capo. Felix pensava al secondo gruppo. Felix? Mmm, chissà chi è. Questo adepto di terra guidò il secondo gruppo delle guerrieri rivale che si unì a Isaac prima dell'evento del Sole d'Oro. Oltre a Felix faceva parte del gruppo Jenna, sua sorella e lo studioso Kraden. Dopo i fatti abbandonò la sua terra e scomparve. A tutt'oggi non si hanno sue notizie. Mmm, chissà dov'è. Non è mai stato facile andare d'accordo con tuo padre. Ma siamo sempre riusciti ad appianare le nostre divergenze. Siamo una grande squadra. Ah, cosa stai pensando, Isaac? Scommetto che hai un'idea che ti frulla per la testa. Ehi là, c'è nessuno? Eh? Che c'è? Ho detto scommetto che hai un'idea che ti frulla per la testa. Visto? Non riesco a leggerlo come un libro aperto. Anche se la maggior parte delle volte non è come un libro noiosissimo. Non è che è un libro noiosissimo. Sì, certo. Molto divertente. Ora, se permetti, vorrei esporre la mia idea. A proposito del capo, allora chi sarà? Dai, smetti di tenerci sulle spine. Dillo e basta. Il capo sarà Geko, naturalmente. Ah, fantastico. Siamo appunto a capo. Vuoi che Geko prenda il comando? Calmati, Garrett. Il mio figlio non è ancora pronto per dare ordine a noi due. Dico bene, Geko? Eh, vabbè. Anch'io non ci capisco più niente. Vorrei solo che prendessero una decisione. Fatemi finire. Garrett ed io ci uniremo a voi in battaglia. Ma tu, Geko, darei ordini solo a Karis. Dunque, vuoi dire che noi saremo solo di supporto a Geko e a Karis, giusto? Giusto. Io e te li proteggeremo mentre combattono. Non dovrebbe essere un problema per un veterano come te. Dico bene? Certo che no. Allora voi due dovrete cavarvela da soli. Ma quando ce ne sarà bisogno, noi vi aiuteremo. Esatto. Ora andiamo. Hai sentito cosa ho detto, no? In marcia, capo. Dunque. Prima appunto di provare, devo testare una cosa. Prima di tutto, vediamo com'è la classe sia nostra che di Karis. Noi dovremmo essere dei bruti. No, siamo dei furfanti. Mentre Karis è una veggente. Mettiamoci palla di fuoco sulla L. Palla di fuoco. Ah, devo usare... Lo stilo. Qua, qua. No? Ma è palesemente da usare palla... Ah, forse sulla pianta, non sui rami. Ok. Va bene. Allora. Abbiamo un problema da risolvere per adesso. Dovrò vedere con l'emulatore se riesco a dare una sistemata al... Al video. O meglio, ai modelli 3D. Perché in quel caso non era tanto il video di per sé, ma era proprio il video che aveva una problematica. Ovvero il fatto che quando parte il video 3D, si smerda tutto. E non capisco se sia un fatto di... Come posso dirlo? Di pre-rendering o se sia proprio il fatto che è pesante o qualcosa di simile. Adesso, dopo che avrò finito di registrare, proverò a vedere se riesco a risolverla. Allora, vediamo. Dovrei andare di qua. Perfetto. Ah, che bello. Questi enigmi molto classici. E abbiamo trovato un'erba. Wow, che bello. Come se non ne avessimo trovate fino ad ora. D'accordo. Dobbiamo raggiungere quel fiore e dagli fuoco. Io in ogni caso, come abbiamo sempre fatto in tutti i giochi di Golden Sun, quando incontriamo un nemico, difficilmente scapperemo. Tanto adesso abbiamo comunque dei, come posso dirlo, degli alleati fantasma che... Bella madonna. Già due livelli così fatti rapidi. Dicevo, ogni nemico che incontriamo, ovviamente lo attacchiamo. Ma io... No? Sono abbastanza sicuro di quello che sto facendo. Però non me lo fa fare. Vuoi vedere che adesso che ci avviciniamo me lo dice di farlo? Quanto ci... No? Quanto ci fai che mi dice prova dagli fuoco? Karis al momento è... Ecco, questa è una cosa buona sotto un certo punto di vista, purtroppo un po' così da un altro. Ovvero, dicevo, è una cosa buona che il primo Golden Sun non aveva. I primi Golden Sun. Ovvero, che se tu attaccavi un nemico, quello moriva, lui si metteva in difesa. Adesso, se un nemico muore e ce n'è un altro, lo attacchi. Ora, perché dico che... Ecco, vedi? È una cosa buona, ma in parte non così tanto. Perché una volta, quando farmavi, per esempio le Fenici, se tu attaccavi sempre la stessa Fenice, l'altra se moriva, ti metteva in difesa. Il che voleva dire che poi l'altra avrebbe respawnata. Adesso, se noi attacchiamo una, ci muore, poi attacca automaticamente l'altra. Il che non ci permette più di usare, appunto, questo modo di farmi. Come ci sei riuscito, Gekko? Hai ridotto in cedere quelle radici con una sola palla di fuoco. Perché non sono così inesperto. Con questa sinergia di palla di fuoco è possibile concentrare una grande quantità di calore e scagliarla sotto forma di palla di fuoco. Eh, lo so, Garrett. Pensavi fossi impreparato, invece ti ho sorpreso. Da quando siamo arrivati qui, ho uno strano presentimento. Come ha fatto Gekko a causare un incendio così grande usando solo la psienergia di palla di fuoco? Già, è molto strano. Hai talento, figliolo, ma non dovresti essere in grado di generare tale potenza. Come ti è venuto in mente di usare la psienergia di palla di fuoco su quella pianta così grossa? Perché sono un genio. Immagino che tu avessi già capito che sarebbe successo qualcosa. Ottimo intuito, figliolo. Beh, non voglio sapere perché hai usato la psienergia. Quello che voglio sapere io è come ha fatto essere così efficace. Questa nebbia non lascia passare la luce. È un segno piuttosto chiaro. La foresta nebbiosa è posseduta da una forza malvagia che la sta trasformando. Ecco perché si chiama così. È la nebbia come confonde i nostri sensi. Si dice che solo chi possiede un cuore puro possa vedere attraverso le sue illusioni. Sarà, ma io mi fido di più della purezza di un bel fuoco. Che c'è? Che ho detto? Potrebbe servire. Sì, eppure... È un'altra strana teoria, Isaac. Forse. Forse? Ci serve qualcosa di più che un semplice forse. Ascolta, Garrett. L'energia negativa viene attirata dai luoghi oscuri, giusto? Quindi, anche queste energie si trovano qui, perché attirate dall'oscurità. Se queste energie sono attirate dal buio, scommetto che un attacco portato con una sorgente di luce potrebbe essere efficace. Sì, ma c'è di più. L'energia negativa porta con sé il freddo. Questo significa che i mostri che vengono attirati qui nel buio e dal freddo sono poco resistenti alla luce e al fuoco. Capito? Certo. Bene, perché non si sa mai. A volte queste informazioni possono essere vitali, è vero? Sta dicendo che queste illusioni sono vulnerabili sia al fuoco che alla luce. Avevi ragione tu. Allora continuiamo a bruciare le parti illusorie di questi alberi. Effettivamente, io l'ho sempre fatta questa cosa di dare fuoco alla pianta, perché la vedo, è palesemente interagibile. Gli ho sempre dato fuoco, ho sempre avuto questo dialogo. Non ho mai visto cosa sarebbe successo se noi avessimo mai dato fuoco. Avrei bisogno della psi-energia a palla di fuoco, quindi tieni sempre piazzato un digin di Marte. Ora andiamo. Se per caso un digin di Marte io lo do anche a lei, che però mi diventa vagabonda. Tu mi prendi palla di fuoco, Karis? No, mi perde setta e crescita. Va bene, lasciamo così com'è. Dunque, si è aperto il passaggio. Torniamo indietro. Oh, ma guarda, c'è un altro fiore e questo è uno shortcut. Niente più, niente meno, purtroppo. Che poi in realtà non so neanche se dare fuoco a tutte quante le piante ci aiuti più avanti di questa foresta. Io in ogni caso le vedo, gli do fuoco. Me la vedi lì, è una pianta, gli vai... Mi devoco. Semi di rovo. Allora. Che poi se ci fate caso è un po' di rallentamento. Lo fa anche quando entriamo in combattimento, purtroppo. Come vi ho detto, Golden Sun ha un grande problema con tantissimi emulatori. Io ci provo dopo questa registrazione a vedere se riesco ad aggiustarlo ancora, più di come ho fatto già ora. Purtroppo non vi posso garantire nulla. Che poi in realtà è più un problema per me che per voi, magari. Perché è proprio una questione di... Come posso dirvelo? Di principio mi dà un fastidio che... Vada lento e vada a scatti. È una questione proprio personale ormai. Dunque, diamo fuoco al fiore. Che poi onestamente... Ehi? Ah, devo proprio mettermi davanti? Che poi onestamente sicuro mi avrebbe detto di usarlo qui davanti. Perché, oh no, come facciamo a passare? Prova a dare fuoco al fiore. Io l'ho sempre fatto di principio, sia chiaro. Però, sicuramente, già adesso me l'avrebbe detto. Allora, di qua non si passa. Lì c'è crescita. Qui c'è un altro fiore che però non possiamo sicuramente raggiungere. Di qua si passa. Sì, perfetto. Allora, allora, allora. Come facciamo ad andare dall'altra parte? Lì c'è... Esatto. Un gradino. Ah, fuck. Ecco, fatto per fortuna. Karis ha già una buona quantità di pipì e le recupera molto facilmente. Però, dicevo, già che siamo qui. Andiamo a dare fuoco al fiore. Di qua. E via. Andiamo di qua. E ti pareva che non appariva qualcuno. Oh, guarda dei soldati ratto. Allora, colpiamo questo. E tu, Karis, ovviamente... Vai di turbine. Al momento è facile intuire perché continuiamo ad andare di psi-energia. A parte con Karis che ovviamente è quella più forte dei... Dei due nell'utilizzo della psi-energia. Ma, ovviamente, come vi stavo dicendo, la utilizziamo anche perché nonostante tutto al momento è la cosa più forte che possiamo fare con lei. Fossimo in altri stati in cui Karis ha delle statistiche o un'arma che gli permette di fare comunque dei buoni danni. E ti direi, ok, utilizziamo Karis per attaccare. Allora, andiamo di qua. Vai. Bravo. E usiamo crescita. Crescita che ha Karis. Qui. Bravissimo. Vediamo dove mi porti. Oh, che bello. Palla di fuoco. Ecco fatto. Che poi, ovviamente, tutto questo non è neanche, diciamo, opzionale. Te lo devi, ovviamente, fare se vuoi passare. Se vuoi proseguire, devi distruggere il fiore. Che cosa abbiamo qui? Allora, iniziamo, allora, spostando le cose. Ecco, fatto. Come al solito, puoi usare il cervello, sì, ma puoi usare anche i muscoli. Erba? È un etere? No, è un elisir. E via, spostiamo anche questo. Ecco, fatto. Grazie. Allora, lì abbiamo da usare spostamento e... Crescita. Vieni giù in acqua, per favore. Grazie. E via. Crescita. Siamo arrivati al confine della grotta, ora. Sì, e quello, infatti, è l'alaplano. Finalmente la caverna. Oh, l'alaplano è distrutto. E lì c'è l'alaplano. È proprio lui. Scommetto che Terry è atterrato lì ed è entrato. L'atterraggio non deve essere stato morbido. È completamente distrutto. Dovrà essere riparato prima che possa tornare a volare. Guarda cosa ha combinato quel testone di Terry. Calmati, amico mio. Sarebbe potuto andare molto peggio. Andrà molto peggio appena ci arrivo lui. Lo pensi davvero? Certamente. I nostri ragazzi sono ancora vivi e stanno bene. Terry è vicino. Garrett, ne sono sicuro. Meno male. Per fortuna ce l'ha fatta. Comunque faremmo bene a trovarlo in fretta. Andiamo, Gekko. D'accordo, capo. Allora, farei un salvataggio e proverei a sistemare un attimo l'emulatore. Allora, farei un salvataggio e proverei a sistemare un attimo l'emulatore.